Buonasera a tutti e benvenuti al recap ciclico della giornata di giovedì 26 marzo. Allora, per ora abbiamo visto che la centratura sembra corretta, anche se mi chiedo effettivamente se qui non ci sia stata una chiusura di settimanale. Sollevo la questione per il fatto che abbiamo avuto da questo minimo a questo minimo 18 barre, che però sono barre da 20 minuti, quindi se andiamo a guardarlo sull'alto grafico l'ho allargato un po' per il fatto che è più comprensibile in termini di movimenti. Siamo a 24 barre, ok? Per cui abbiamo una parte di ciclo che potrebbe tranquillamente aver chiuso il settimanale e aver fatto partire qui non l'ottavo T-3, ma nella realtà, infatti, un nuovo T settimanale. Metto in guardia per sicurezza perché bisogna sempre, come sapete, confutare le proprie ipotesi principali. Se invece dobbiamo andare a vedere semplicemente quello che normalmente si vede anche solo con l'analisi ciclica, non con l'evoluta, questo è ancora un T settimanale che è partito da qua, ok? E' partito il 16 marzo e sta andando a fare ancora i massimi prima della chiusura. O magari ha già fatto il massimo prima della chiusura. Vediamolo da un'altra prospettiva, perché qui possiamo tranquillamente ancora dire semplicemente che siamo arrivati alla diciottesima barra, diciottesima, sì, barra, su minimo 24, per cui dovrebbe scendere, ma la tendenza continuerebbe a salire. Esattamente come segnalavo tempo fa, cioè anche senza apparenti volumi, gli HFT spingono, danno una prima spinta, poi quando si sta esaurendo rispingono e ridanno un'altra spinta e procedono in questo modo permettendo soltanto delle chiusure cicliche di breve, brevissimo periodo, qui quella dell'ottavo supposto T-3, e poi riprendono a dare la spinta, poi si riscende, poi di nuovo spinta, poi si riscende, in modo da non destare sospetti sui book e da non appesantire troppo un movimento che comunque stanno già facendo vedere che si vuole fare. Vogliamo vederlo in maniera ancora più interessante? A parte quanto ho visto già con le medie mobili, per cui siamo ritornati a una situazione di rilancio verso l'alto, ovvero medie mobili più corta in azzurro, in blu, del T-2, sopra quella del T-1, sopra quella del T, sopra quella del T-1, e che stanno andando ad incrociare, a salire dall'alto verso il basso, e quindi creando golden cross anche le altre. vedete, qui non sono completamente in ordine, ma T-2, T-1, T, T-1, T-2, via di seguito, si stanno mettendo in asse per salire. Per cui, guardiamolo ancora da un'altra prospettiva. Qui stiamo confermando tutto, ok? Sempre con l'incognita di un raccordo ciclico, ovvero una finta, ovvero una lingua di Bayer, che potrebbero fintare la partenza appunto di un nuovo T-2 e poi finire qui sotto, per cui c'è sempre purtroppo quel rischio, anche perché tra poco vedremo il discorso del VIX. In questo momento siamo arrivati a 8 barre a rialzo, quindi abbiamo già un T settimanale medio. Tranquillamente rialzista, ok? Che dà vita perlomeno a un T-2, che però, ripeto, può essere un'incognita. Parlo sempre per esperienza vissuta, ho vissuto purtroppo il crash del 2000-2001, della bolla tecnologica, quello del 2008, e similia. Per cui, se uno vive sui mercati e vede determinate cose, è meglio che comunque le comunichi alla persona con cui ha un rapporto. Un rapporto soprattutto di tipo professionale, da analista ciclico e analista quantitativo. Qui, appunto, può essersi chiuso a 7 barre il terzo T-I, quindi io inizio a fare così, e può essere iniziato un nuovo T, un nuovo inverso, settimanale inverso, che non sappiamo ancora se apparterrà, non sappiamo ancora se apparterrà a questa struttura primo T più 2 di questo T più 4 T più 5 inverso, ovvero semestrale, probabilmente annuale inverso, oppure se farà partire, appunto, un quarto T inverso, che poi si rivincolerà verso l'alto, viceversa, da qui dovrà partire, da questo massimo, dovrà partire una spinta più forte verso il basso per far partire il nuovo T più 2 con un T inverso, T più 2 inverso, quindi con un T inverso a rialzo, ovvero a ribasso di un indice. L'ipotesi è che se sarà una ripartenza V e non a W, come detto, vincoleremo a breve, sopra questo swing a 17.830, anche questo nuovo T inverso e continueremo a salire. Viceversa, se avrà ragione il death cross che va confermato, partenza V, tra poco riprenderemo il viaggio verso il basso. Non avendo la sfera di cristallo e andando ad osservare anche altre cose per capire come ci stiamo muovendo, guardate come sta sparando l'insù l'americano con tre candele a rialzo, dovreste riflettere anche sul fatto che non c'è una perfetta correlazione tra i mercati e non mai neanche più tra gli asset. Guardate com'è differente, anche in questo caso, il DAX che ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, esatto, che è arrivato a 5 candele e ognuno ha la sua forma differente. Qui cosa abbiamo? Eccolo qua. Il VIX, peraltro, è vero che è andato in death cross, quindi attenzione, non sottovalutiamo la cosa, può essere un'ulteriore spinta a rialzo dei mercati, però va confermato e quindi dovremo vedere se effettivamente d'ora in poi avremo una spinta sopra questa media mobile a 50 periodi della più veloce in rosso oppure se rimarremo sotto. in quel caso potremo valutare il long anche in overnight se inizieremo ad andare finalmente verso i 25 che non riusciamo neanche più a vedere sul grafico. Questo è quanto, per cui vi ringrazio molto per l'ascolto se avete avuto il tempo di ascoltare, anche fuori da TradingView, continuo le mie analisi, continuo ad allargarsi la mia community di più di mille persone, ormai mille trader. Il gruppo invece premium, quello riservato a chi desidera avere più informazioni e fare didattica costante tutti i giorni sulla ciclica evoluta è raggiunto un numero decisamente interessante e oltre le aspettative del periodo per cui ringrazio tutti per la costanza con cui mi date la vostra fiducia che va meritata però tutti i giorni. Il mio lavoro continua, il mio compito e la mia missione di dare informazioni di valore alle persone non si ferma dove si fermano gli altri. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata e vi ringrazio per l'ascolto e vi ringrazio per l'ascolto